Parlare di pace in questo periodo non è né facile né scontato, ma sicuramente è utile. In particolar modo, se come è successo a Morbegno, nell'aula ipogea della chiesa di San Giuseppe, a farlo è Marco Tarquinio, per 14 anni direttore di Avvenire. Il giornalista è stato ospite della serata organizzata dal vicariato. Si è parlato del perdono, senza il quale ogni guerra andrà avanti all'infinito, mentre noi, anche oggi, abbiamo negli occhi quello che quotidianamente succede nella striscia di Gaza, dove i morti in questi mesi sono diventati più di 30.000. Ieri, l'assalto di migliaia di persone e i mezzi umanitari che trasportavano cibo, oltre 100 morti, molte erano semplicemente persone, in fila per il pane. Ecco perché la serata di Morbegno è stata quanto mai attuale. Dobbiamo essere capaci di capire che perdonare non significa dar ragione, significa assumere il torto dell'altro e farci conti, non nascondere, non rifiutarlo, riconoscerlo fino in fondo, conoscerlo e scegliere una strada diversa. Questo, dal mio punto di vista, è l'inizio anche della pace, è l'inizio dei percorsi di pacificazione in un mondo e una società che è segnato molti modi dalla guerra. L'incontro fa parte del calendario di Orme di Pace, a cura del vicariato di Morbegno, in collaborazione con l'Azione Cattolica di Morbegno, di Talamona, del gruppo Scout di Morbegno. Saper perdonare anche chi fa la guerra, saper perdonare anche gli attori che in questo momento stanno animando i 184 conflitti attivi nel mondo su 200 nazioni presenti in tutto il globo. Insomma, è una riflessione che punta a mettere in gioco ognuno di noi sul tema del perdono. L'incontro con l'ex direttore di Avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale italiana, è stato solo una delle tante serate proposte da Orme di Pace. La partecipazione alle tre serate, una nella comunità di Talamona, una nella comunità di Paniga e questa sera in quella di Morbegno, è stata molto ampia. Siamo molto contenti come organizzatori. Anche della generosità siamo riusciti a raccogliere fondi per garantire di acquistare due computer in più da portare nelle terre di Ucraina, che abbiamo affidato agli amici di Frontiere di Pace, e un decespugliatore in più, che sembra poco, per un progetto agricolo, di imprenditorialità agricola femminile, nella terra di Palestina.